Bonfiglio Riborio arriva a teatro con questa bella regia, con Rossella Mattioli che affianca lo scrittore in scena, tante emozioni e un percorso anche nella storia, sia umana che nella storia vera e propria. Sì, ho cercato proprio di mantenere il più possibile la linea proprio del racconto, della figura di quest'uomo che comunque viene fuori, nasce normale, tra virgolette, e poi magari non viene capito, ha una serie di esperienze negative, di cattiva comprensione che lo porta poi addirittura anche al manicomio. Quindi ho cercato di prendere gli elementi salienti per poter descrivere tutto il percorso di Riborio. È bellissimo il romanzo da cui appunto ho tratto questa drammaturgia proprio perché è proprio una serie di spaccati della storia, della nostra storia e comunque è sempre emozionante, ho sentito delle belle vibrazioni nel pubblico, quindi vuol dire che ha colpito questo racconto di questo spaccato storico. In questa lettura scenica della vita di Riborio abbiamo cercato di mettere un po' tutto per renderla più suggestiva possibile, per emozionare soprattutto, per dare un messaggio anche, non poi neanche tanto troppo velato come accade nella fine, della necessità di accettare la diversità, di accogliere gli altri. Quindi è un libro, come dire, di un'operazione culturale direi d'amore, in senso largo e nobile come accoglienza e come accettazione dell'altro. Quindi poi le musiche di Paolo, la bravura di Dario Frammini e naturalmente la grande capacità di raccontare e di usare il corpo di Rossella Mattioli hanno fatto il resto. Io sono molto contento e soddisfatto di tutto questo. Le vicende di Riborio sono le vicende simbolo di una storia, di un paese fatto di speranze, di voli, di cadute, di viaggi, di naufragi. Insomma, Riborio rappresenta tutto questo, è una figura simbolo in cui tutti possono riconoscersi. Lo spettacolo è nato per il FLA e tutto sommato la sfida che abbiamo fatto è questa. Speriamo e pensiamo anche dalle lezioni del pubblico di esserci riusciti, cioè di dire vi presentiamo il premio Campiello come non lo avete mai letto. E alcuni spettatori ci hanno detto effettivamente, dice noi abbiamo letto il libro, ma l'emozione che ci ha dato questo spettacolo è incommensurabile.